Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Giovanni e oggi siamo nella sfida dei dramatici La sfida di Eve contro Janet, due brawler che sinceramente per me sono molto forti Però chi vincerà questa sfida? Vedrete tutto il video? Non lo so ma spero di sì Ma adesso vi lascio alla sfida, ciao ciao Allora signori, allora, andiamo su Eve Io Eve la chiamo Gesù Cristo perché può camminare sull'acqua Però comunque io secondo me preferisco più Janet C'è un brawler molto bello, è molto bello come brawler, mi ha sempre affascinato Allora, vediamo i colpi per uccidere l'avversario 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3 caricatori? Ma perfetto ragazzi, ma ci sta, ma sapete perché ci sta? Perché adesso Janet, secondo me sono due perché va nerfata Va nerfata Janet ragazzi, è troppo forte Janet, mamma mia Ma poi c'è lo stesso attacco di Pocho, ma che è sta roba? Vabbè Ma poi adoro questa meccanica Certo è un po' difficile fare l'attacco più stretto però Ci provo 3, 2, 1 1 2, 2, 3, 4, 5, 5 colpi? No, non avevo contato bene, scusate 1, 1, 2, 4 colpi servono No, mamma deluso Janet, su sta cosa 4 colpi No 1, 0 per Eve Non me lo aspettavo No No, mannaggia, se vince Eve mi incazzo Vabbè Non fa niente Vabbè Vediamo il danno della super di Eve Che penso, raga, devasta Non lo so Allora, vediamo Facciamo nascere i piccoletti Poi conto se fanno un po' di danno Allora Ecco Nascete Allora 200 Conto solo a uno, eh Eh, ho fatto 800 di danno Adesso 800 per 3 Perché 2400 Raga, ma siamo seri Ma WTF 2400 Andiamo Janet Andiamo Janet La super è la più forte secondo me Perché non la puoi colpire Devi solo subirti i danni E forse crepare Vabbè Ricarichiamocela Dai Quanto ci vuole a ricaricare una dannata super? Non penso Ci vuole così poco Ok, allora 3 2 Testiamo sul robot gigante Allora 3, 2, 1 Guarda Ah, 1 600 600 600 Ok Vedo Dalle statistiche Perché non ci ho capito 7 per 600 Beh, allora Se contiamo Che colpisce Tutto il tempo 6 per 6 4200 Ragazzi Janet Sta rimontando Ma adesso vediamo Il danno Quanto fa di danno? Ragazzi Quanto fa di danno Janet Fa mille Me lo ricordo Fa mille Perché l'abbiamo appena provato E quindi Ah Mille Però vediamo Eve Ragazzi Penso che Eve Faccia di più Faccia di più Non lo so Ragazzi Ogni uovo è più grande Nell'altro è il caso Ha più doni del precedente Cazzo Ma No Questo brunello è un po' forte Ragazzi Vediamo quanto fa Ah Il primo uovo Vediamo 400 520 920 Eh raga Fa più danno di Janet Ne fa 1500 E passa Mamma mia Eh Adesso contiamo la velocità Se Janet È più veloce di Eve Dobbiamo fare lo spareggio Che sarebbe In pratica Il raggio Dell'attacco Eh Qua vince Janet Ah Ne diamo la velocità 3-2-1 1 2 3 4 4 4 secondi Eve 4 secondi Ragazzi Janet Non lo so Ma penso È più veloce Vediamo la velocità Velocità di movimento Normale Penso che anche quella di Eve Sia normale Se ricevono Se hanno tutte 2-4 secondi Vince Eve Perché è 3-2 Diamo il punto a tutte e due 3-2-1 1-2-2-3 3-2-3 3 secondi Spareggio 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 Stavo per arrivare quasi a 4 secondi Ma ce l'ha fatta Spareggio Ok Adesso vediamo il raggio Raga Il raggio massimo Eh Ma non lo faccio per vincere Per far vincere Janet Ve lo giuro Cioè Così lo spareggio Allora Se arriva il robot Ok Ci arriva Arriva verso il mattone Adesso vediamo quello di Eve Ragazzi Quello di Eve Non lo so Non lo so Ma sono curioso Ah Ricordatevi Il secondo mattone Vicino al robot Quello di Janet Ci arriva pochissimo Vediamo Chi vincerà Oddio Raga Ha vinto Eve No No Ha vinto Eve Perché quello di Janet Arrivava tipo Qui Guardate Qui Quello di Eve Arrivava qua No No Ha vinto Eve No Non me l'aspettavo No Ci sono rimasto di merda No Ha vinto Eve Dannazione No Vabbè Che dire ragazzi Facciamoci una bella partita Con Carlo Per non pensarci sopra No Signor Carletto Come possiamo fare Ha vinto Eve No No raga Non ci credo Ha vinto Eve Ma serio Seriamente No raga Non ci posso credere Ha vinto Eve Ha vinto Eve Cioè penso a Janet Perché si può allargare la mira No Bonnie che pensi Che tua sorella Ce l'avrebbe fatta Sei rimasta un po' di merda Pure tu Eh Non so No Mi dispiace Vedo una Eve La kill Con tutta l'incazzatura Del mondo No Perché Ci sono rimasto Troppo di merda No raga Mi dispiace Seriamente No Vabbè Via Via Perché non attacca Perché No Pure tu Carletto Mi hai deluso Mi hai deluso Un casino Carla Ma perché fai così Carletto Perché No Quattro coppe Vabbè signori Concludiamo quel video Che è meglio Che c'è l'a которые